Potrebbero volerci sei mesi per arginare la fuga di gas dalla piattaforma della Total nel mare del nord. La stima è degli esperti della stessa società intervenuta per gestire l'emergenza della Maria Nera nel Golfo del Messico. Dopo l'evacuazione del personale sono stati disposti anche un perimetro di sicurezza e il divieto di sorvolo della piattaforma.